Si appassa il cancelletto di Marrizza, allora andiamo a vedere qui, dovrebbe essere Negro, Pelizza, c'è anche lui, Crosara, Crosara si infila in terza posizione per il pescantina, ma è un'addottetta del team BMS e Creazzo, e allora Negro e Pelizza, Negro e Pelizza, e Crosara con il podio, in terza posizione per il pescantina, in ultima punta, e allora il completale Creazzo.